Guardate questo gioco qua ragazzi, cioè è un gioco bello, è divertente, è un gioco famoso, già da ormai 4 anni che esiste e la gente continua a giocarlo, è un bel gioco ragazzi, questo qua caso non sapete Fortnite, penso che molti di voi lo sanno però caso non sapete Fortnite, molto famoso, un bel gioco. Cosa succede ragazzi quando un gioco è molto bello, famoso, ci sono delle persone che vogliono crearlo, crearlo a modo suo, diciamo fare delle modifiche anche, magari per farlo funzionare su PC che non sono così potenti oppure per crearlo a modo suo sinceramente ragazzi ed è quello che vedremo nel video di oggi, infatti vedremo un Fortnite ragazzi della Deep Web, ok? Ok, uso il termine così, poi vedrete voi cosa ne pensate, date il termine, ok? Lo create voi ragazzi, io vi farò vedere, poi decidiamo come chiamarlo, ok? In questo qua ragazzi c'è pure il pass battaglia, pure il pass battaglia ragazzi, vediamo. Ciao ragazzi, io mi chiamo Leo Polo e nel video di oggi parliamo a riguardo di questo meraviglioso gioco, ok? Assurdo perché c'è anche un vero pass ragazzi, ok? Io ho giocato una partitina o sono anche avanzato di livello, ma ragazzi c'è un vero pass, ok? Che ovviamente dovete comprarlo con i soldi ragazzi, con i soldi, e ci sono le skin, ok? Cioè la qualità è ovviamente anche migliore di Fortnite ragazzi, secondo me c'è la qualità proprio oltre l'epico E raga, vediamo ora, ok? Voglio fare una partita competitiva perché qui c'è pure il competitive, no? Cioè come mai non ci sarebbe il competitive? E vediamo cosa troviamo qui, troviamo delle gente forte, si gioca 1v1, lol Vediamo qui, ok, allora, c'è l'avversario che vediamo, ok, io non sono riscaldato ragazzi, ho giocato fuori, oh mio Dio Ma c'è gente forte qui? Ok, boxed, no, no, oddio, ok, non ho prenduto la caduta, dove sei? Scarsetto, vieni qua Io divento pro player ragazzi, eh? Cioè Fortnite non ci ho avuto un po' opportunità, ma non è detto che non ce l'abbia qui Vieni, vieni, fatti vedere, vai Ok, aspetta, con calma Cioè ragazzi, il sistema di edit qua è 10 volte meglio di Fortnite, io lo dico, guardate Ok, dovete solo stare calmi Ho messo pure l'editon, c'è pure l'editon release ragazzi Ma poi è il competitivo, è l'ambiente tryhard oppure Oddio, comincio a sudare Dov'è? Vieni, vieni qua Vieni qua, vieni qua, dove sei? Oh Ma come? No, c'è donna caduta, no, non lo sapevo, ora Non è giusto, nella casuale che ho fatto non c'era donna caduta, non è giusto Non è giusto Riproviamo, ok, avevo trovato uno troppo forte ragazzi, troppo forte, avete visto? Lui non mi ha lasciato Aiaiaia, oh, con calma Cilla Vai, prendi questa Oh Oh, 9 di danno però No, è il pompa del, del capitolo 1 ragazzi, che faceva 9 di danno Oh, prendi questa È in massi stone ragazzi, è in massi stone Dove sei? Sei morto Dove sei? Fate vedere Sei coraggio Ti rubi Oh Cheima, 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 cheima Fate vedere Oddio Oh, no ragazzi Lo shittono ragazzi Guardate, guardate Oh Oh Faccio finta di andare via di qua Vediamo se hai il coraggio No Ma la gente sta trerodendo troppo qui ragazzi Allora, ho visto che il competitivo magari è un po' troppo Un po' troppo per me Un po' troppo Ok, magari Vediamo Vediamo una boxfight ragazzi C'è pure i free build C'è lame trainer ragazzi Lame trainer ragazzi Gli allenamenti con i zombie Ci sono 1v1 arena Ragazzi 1v1 arena C'è Vedete il livello qui C'è che Fortnite ragazzi Io ormai Fortnite non lo gioco più Ok Prossimo video Trucchetti dei proc su come migliorare Su Su 1v1.lo ragazzi 1v1.lo Facciamo Io faccio una box Perché in boxfight io sono forte Io sono Io darei delle box Dov'è? Dov'è il nabo? Eccolo Buongiorno signore Come stai? Ecco Questo qua è venuto Per perdere ragazzi Oh Vedete Guardate Vai Vieni Fatti vedere Oh Vuoi fare la finestrina? Io uso il pixel destro Oh Oh Guardate Oh No Dov'è? Ma come? Non c'è il fake Ma come? Ok Riprisse pure bene Guardate Oh Oh Dov'è? Volevo mettere nel mio montaggio questo Dov'è? Vai Sono troppo foo Mamma mia Ragazzi L'ho distrutto sto qua Vediamo Ho ricevuto qualcosa del pass battaglia Guardate C'ho pure l'emote Ah ma io la vinco Io lo vinco Lo vinco Ma lo vinco Ma lo vinco Ora Ora vinco E' quello che mi mancava E' quello che mi mancava E' quello che mi mancava Per il competitivo Io sono a zero trofei Ragazzi Ma Tranquilli Lega campioni Due giorni massimo Qui è Due giorni massimo No ma Mancava quell'emote Era solo quello che mi mancava In realtà Sapete Non l'avevo Non l'avevo preso prima Era quella Guardate Dov'è il mio emoticon Ma dov'è? Ma come? No aspetta Non calmo Ma non riesco a fare l'emotico Ma no Mi ho trollato Ragazzi Ti vedete Ok ragazzi Allora Torniamo alle basi di forma Cacca ma quanto aveva buildato sto qua Aia 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 Easy win Easy win Easy win Easy win Autotrofei Vabbè Bugha Ho ucciso la bugha Non so che Che è Nel senso Ve l'avevo detto Ormai Ormai ragazzi Fortnite è un po' vecchio Cioè vedete pure bugha qui Pure bugha Pure bugha Che vi dico? Ve lo faccio vedere l'ultimo L'ultimo game qui contro Ali 1,2,3,4 Che è questo qua ragazzi È per mettere nel prossimo montage Ok? Vediamo se riesco a fare il triple led Ragazzi Ok Con un po' di ritardo Però esce Ok Con un po' di ritardo Oltro esce Ok Vediamo Ecco Raga però è molto realistica Ve lo dico Cioè nel senso Le meccaniche di qui C'è uno merito di Fortnite No 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 Oddio Si l'ho vinta Mamma mia Eh ragazzi Ecco che Ecco questo è il gioco Ok questo è il gioco Ok io ve lo dico Che questo è il futuro di Fortnite E ragazzi Questo è il finale del video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Ativate la campanella Se vi è piaciuto questo giochetto Ragazzi Sincero Sincero Cioè non è la miglior cosa Che vedrete su Fortnite Però ragazzi Guardate che le meccaniche Sono proprio simili C'è il senso Mi è quasi uscito un triple led A loro che vi dico Ok ragazzi Se volete migliorare su Fortnite Guardate il video Che vi lascio ora alla fine E al prossimo video Ciao 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 Ciao